Luca Presta, anche tu qui al Trofeo delle Regioni di Beach Volley a Cetraro, con te si riparte in maglia Tonno Callipo per una nuova stagione, nonostante la giovanità sarà la quarta stagione per te, ritrovi di nuovo Marcello Forni, con quali obiettivi, con quali sensazioni, con quale voglia nuova per ripartire dopo la scorsa stagione? La voglia c'è sempre di allenarci per bene, fare sempre del bene, quindi giocare in tutte le partite, cercare sempre di vincere. Ritrovo vecchi giocatori, oltre a Forni ritrovo Feroleto e Sardanelli e Verovotto, sono molto contento, infatti non vedo l'ora di riniziare questa preparazione, di rincontrarli. Ritrovi anche Vincenzino Mastrangelo che hai avuto nelle stagioni precedenti, in quella 2012-2013, la prima in Serie A per te, sai già più o meno, anche se lo hai avuto come seconda, adesso lo avrai come primo, sai già i metodi di lavoro, c'è ancora Antonio Valentini, c'è ancora lo staff di sempre, si riparte dopo una tua grande stagione in Serie A 2 con la voglia di esplodere ancora di più? Sì, la voglia è sempre di arrivare sempre più in alto, ritrovo Vincenzino da primo, per me è una cosa molto bella, lui so che mi ha voluto molto e quindi non vedo l'ora di riniziare e di riprendere questo cammino. Ascolta, sono stati diramati i calendari, ti sei fatta già un'idea sul campionato, sulle avversarie, sulla nuova Tanna, sulla nuova Tonno Calipo che sarà, che si giocherà le proprie carte in un campionato a 14 squadre con tante società che si sono rinforzate anche dalla Serie B come Siena per esempio. Sì, è un campionato molto lungo, molto bello direi, però non mi interessano molto le altre squadre ma l'importante è allenarsi ogni giorno seriamente, dare sempre il 100% che dopo in partita verrà da sé, quindi questo è l'importante. Un altro po' di relax Agostano e poi si riparte Luca, un altro po' di mare, un po' di sole e poi si riparte con gli allenamenti in palestra. Sì, infatti altri 20 giorni di relax e poi ritorno nel mio habitat, infatti quello è l'importante, non vedo l'ora di ritornare, di toccare il pallone, di ritornare a vivo e di allenarmi ogni giorno.